Yo 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 bella raga sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video Guardate dove sono, nel desktop, chiamiamolo desktop, della console con Battlefield Open Beta installato Ci ha messo una mezza giornata ma tanto dovevo andare a lavorare e quindi eccoci qua pronti per provarlo La prima volta in live raga non l'ho ancora avviato quindi lo faremo in live la prima volta Mi raccomando lasciate un mi piace per supportarmi se volete altri video scrivetemelo sotto nei commenti Ditemi se l'avete provato e cosa ne pensate io sono gasatissimo e no sono davvero carico Non so neanche cosa dire quindi guardiamo sigla iniziale anche se ce n'è una Bella che ti carica possibilmente Team Telecom tutto quello che mi dà una rete in questa console ti prego Ok sta iniziato qualcosa, musichetta di sottofondo Ok Dark è carico, Dark è carichissimo cazzo Mi raccomando raga mi piace se siete dal telefono spingetelo molte più volte perché sapete che non prende Perfetto Welcome to your Battlefield Yes carichissimo Prepari po' oh 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 Questa musica sono ancora più motivato Dopo registro anche altri video perché fra una sett- cioè fra qualche giorno raga Io parto per il mare precisamente lunedì e tutta la settimana non- cioè vi devo preparare qualcosa Io pensavo Battlefield Adesso vedrò come sarà Un gameplay con il cecchino ve lo porto non oggi perché- Riprova Dark Ce la puoi fare cozzo Team Non ora Non ora Innanzitutto aumentiamo la sensibilità Mettiamola a 70 come in ogni gioco Non so perché la metto sempre a 70 io Ok Connecting Yes Lo sta facendo Si Si 64 giocatori oh mio dio Ma come primo gameplay sempre Guardate che figata Non so cosa devo fare Vi dico un inedito che non so se lo sapete O un aneddoto Forse si dice aneddoto Se raggiungete il livello 13 online vi daranno una medaglia per quando uscirà il gioco Se me lo comprerò ve lo dico già subito Me lo comprerò E se avete altre domande Fatemelo pure nei commenti Esistono per quello Cioè prima di tutto L'obiettivo è quello di far partire il gioco Ok è partito Joint Squad Chi se ne frega E tutto quello che vuoi zio Allora cosa dobbiamo fare Non lo so Allora Grafica Ci siamo Dark Sensibilità forse un po' troppo sensibile Sapete Allora cosa abbiamo Pistole e fucilino Perfetto Andiamo a conquistare Se ci fosse un veicolo Non sarebbe bruttissimo Però va bene così Ah raga guardate che figata Madonna mia Sono contentissimo Davvero è un gioco che aspettavo da tanto Erano anni che non facevano Un gioco dei tempi nostri O sul passato comunque Poi intanto abbiamo un mega cannone che si vede spesso Zio vengo con te Hanno tolto finalmente La non animazione che non c'era Ok passiamo da dietro Guardate che figata Madonna mia Vai zio vai vai Guida Ammazziamo i Ah ma no cazzo C'è uno che c'è sopra Zio ti do una mano Scusa Fardone per farla Per la mia Mi era Eh zio Se guidi Mi fai un piacere Sai Come si ferma Allora ci stanno cechinando Sembra È un po' difficile Da Ok eccolo là Senza mirare Da lì Sta lì Bravo Grande Grande Ucciso Bitch Vai 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 Dai scendiamo un attimo Dato che ormai le basi sono vicine Voglio un po' Vedere Prima di fare Ste cose qua Allora come si sale Si sale Sto un po' guardando le animazioni che ha messo A vederci Hanno saltato qualcosa Perché è molto facile Quello faccio Morte Bruttissima Sei Io deficiente Ragazzi sono abituato ad Avversi Eh sì Eh black ops 3 E quindi c'è sto vizio qua Intanto anche la cosa Qua è fighissima C'è sto vizio qua Di schif C'è di buttarmi giù Degli edifici Pensando di non ricevere Un po' di danno Ok Qua la vita sale Dopo un po' Cosa devo fare Oddio che cazzo ho mai fatto Ok questa qua è la baionetta Ci si abbassa così Questo è il coltello Quando si scatta Ok La conoscenza dei comandi Qua come si apre Come ha fatto Ho visto Giustamente Come fai ad aprire una porta Dai Spesso normalmente Chiudiamola Perché Oh no Chiudiamola Aspetta Ma tu sei stupido Ok sento delle voci di qua Stanno Parlando Ok Qua ci dovrebbero essere raga Sto attento Ma è venuto da qua No Devo invertire i comandi Se si può Non mi ricordo Secondo me no Però Devo fare assolutamente Porca troia Ma li sono visti sotto Ah questo qui PS è un gameplay Con la classe assalto Madonna che figata Quindi Gameplay classe assalto Poi è sceso uno Se il nemico Adesso si pensa D'arte Il nemico O stavolta lo uccidiamo Dai che dici Che dici che lo uccidiamo Quando li Porca troia Quando li vedi Però li uccidi Bene Si mappe appena un po' grandine La mira che ti parte Ma non c'è la mira cistita Oh Bitch 55% di vita L'abbiamo rischiata Bella grossa Ok No guardate Guardate se scatta la mira Eh forse la sensibilità Era un po' troppo alta Seriamente Beh noi continuiamo per la nostra strada Lì arrivano dei nemici Vai Il mio Non muore Non muore No però è mio Raga è mio Non me lo faccio scappare Che cazzo sei Eh merda No ha fatto un giro da sopra Questo cos'è Una granata E Dinamite Cosa me ne faccio Dalla dinamite Lì c'è il cecchino Raga mi sono rinforzato Che c'è un altro cecchino No Là in fondo Cosa dico È là Ci provo ma No 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 Non mi piace mica tanto Faccio Vai crepa 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 L'ho beccato in testa Ormai ci rimanevo secco Finiti i colpi Porta troia Zio Medikit Qualsiasi cosa Ecco Ma tu non eri con me Cosa c'hai in testa Che cazzo c'hai Guardate l'aero che arriva Oddio Che figata No è troppo bello Cioè Non sembra di essere Nel tra gioco Vi dirò La verità Mi dava più Oh merda Mi dava più Aspettate un secondo Che prima Di dirvelo Vorrei buttarci Con la roba lì Porca troia Promossi Veicolo distrutto Mi dava più atmosfera Battlefront Se dovesse sincero Oh no 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 Disattiva sta merda Dark Disattivala E che Quando la tiro Non so come cazzo Se fai a disattivarla Oh Crepa crepa Ucciso Bitch Ok Attenzione che Ce ne sono degli altri In fondo Eh Aspettate Perché se Questa è una maschera Anticasca Non mi serve Stavo guardando Ah Ok Questa è una granata Suppongo Questo Si comunque Si stiamo perdendo Mi sa che Ma io si smuoviamo Che mettete dentro le case Sarebbe bello Per fare un ritorno A Battlefield Bad Company 2 Dove cadevano le case Raga Cioè Cadevano proprio le case Era una cosa stupenda Iniziamo Sfondiamo la porta Incredibile Se scatti Te la sfonda Senza dover spingere X O magari Delle due Chiudiamola Ok Campiamoci Questa qua Ora è casa nostra L'ho sempre voluto Una casa qui Ma se tipo Scatto così No Si devo solo stare Attenuto i cecchini Che qua Dall'audio Se ne sentono Che ti sparano Dietro al culo E non sono pochi Eccone uno Ma porca troia Estrae di merda T'ho visto Occhio là in cima Ok L'hanno cecchinato Perfetto Come on Come on In the house Ci stanno Stanno prendendo C Dove Ok Siamo in serie Raga Siamo in serie Pazzesco Ma è così Lì ce n'è uno L'ha visto Ma io l'ho visto Dai è andato anche lui Perfetto Andiamo da C Voi cosa mi dite Io andrei Ma cazzo Un carro armato Vi ha subito D'arco Vai via Ok Non si può scattare Ci si butta qua Ma dai ci abbia fatto salvarci Buona Oh c'è Dark Cerchiamo di distruggerli Andate sopra Ma tu sei con me Si Che mi spani Merda allora Perché ci hanno preso Cima e un carro armato Raga Non so come fare Eccolo lì il carro armato Mio Andato Occhio da qua Se ci salgono Sono casini No c'è un alleato Di sotto Dovrebbero salire Vai ma c'è anche questo Oh l'avessi preso L'avessi colpito Una volta Una Madonna mia Ultimo caricatore Che figata raga Oh un gioco della madonna Un gioco poco dire Però Direi che mi ha visto Vediamo che prendendo C Poi dopo spawno da C Un aereo è disponibile Bene dai Ho preso il carro armato Va bene comunque Ok raga Sto guidando il carro armato Ci si muove con le frecce Arriverò domani Quindi ci vediamo domani Comunque perché è il nostro Tre nella vita Non riesco a capirlo Noi siamo proprio I sfigati Allora adesso Prendiamoci Stabì Oddio scusami Entriamo Di prepotenza E giù Via di potenza Yuhuuu Mezza seghe Sì li sto un po' intimidendo Ecco perché Diciamo che Il mio carro armato Non è Forse così resistente La vita dove cazzo C'è la che non riesco a capire Nel frattempo Finché non ci bombardano Zio coprimi Allora abbiamo uno Sopra da noi Perfetto Prendiamo sta cazzo Di bandiera E poi andiamocele Via 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 Vai 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 dritto Coglione Che figata Raga vi sentite potentissimi Sembraiamo due lumache Però due lumache Contro coglioni Stiamo solo attenti Cioè il brutto È che non posso guardarmi Nei lati Perché chiaramente Non sono carro armati nuovi E quindi bisogna stare attenti A tutto Ok vai via via Adesso Dark Danneggia Zio devi sparargli A sto qua Zio Ok perfetto Non riesco a capire Qual è la mia vita Ma Ok Abbiamo anche ucciso uno Bella lì Prendiamo cc Occhio eh Attenzione Amico Devi sparargli Cazzo granata Porca Trova il 95% Ora ci è saltato fuori La vita Guarda quella merda Ma che cazzo Voglio fare Occhio eh Aiutiamo i nostri amici Perfetto raga Stiamo andando da dio Sì però Peccato che In mitraglione Non riesci Ok Ci abbiamo fatta Vediamo Vediamo se possiamo Spaccare la parete No Magari col cannone Sì però Ora no Ok preso anche C Il comando di Dercaccio Avanza Mi hanno perso Raga che dire Non ci siamo classificati Questo era deserto Del Sinai Che dire raga Io davvero Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che la beta Vi stia piacendo Ne vale la pena Vi dirò la verità È solo la prima partita È andata male Ma è logico La prima partita Che poi alla fine Non è andata male Cioè Normale È stata una partita normale Pensavo peggio Lasciatevi piace per supportarmi Prossimamente avrete altri video Soprattutto se me lo chiedete Raga Provo a portarvene Molti di più Con una bellissima musica Di sottofondo Raga Io vi saluto Come sempre ci vediamo Prossimamente con un prossimo video Stasera Per i fan di Game of Thrones E nulla Da Derc è tutto Bella